L'Italia si è accesa di rosa la sera del 29 gennaio per il Giro d'Italia. In ogni località di tappa del Giro d'Italia su tutto lo stivale si è illuminato di rosa un monumento, un punto caratteristico per dare il via al Giro 2019. L'Aquila, città di tappa, il prossimo 17 maggio del 2019 ha scelto Palazzo dell'emiciclo grazie alla collaborazione con la Regione Abruzzo come monumento simbolo della città in questo Giro d'Italia. Il magnifico colonnato è stato illuminato in tutta la sua maestosità dal colore rosa per celebrare il grande evento ciclistico. Il Palazzo dell'emiciclo diventa così il simbolo dell'Aquila nella campagna stampa nazionale del gruppo RCS e in particolare la foto dell'emiciclo è comparsa in una pagina di ringraziamento della Gazzetta dello Sport dedicata alla città di tappa del Giro d'Italia 2019. A pagina 30 del Quotidiano Rosa, titolata Apoteosi Rosa, Fabella mostra dunque di sé il Palazzo dell'emiciclo, la sede del Consiglio regionale scelto appunto come monumento rappresentativo dell'Aquila. Il riconoscimento della bellezza della suggestione di Palazzo dell'emiciclo da parte del prestigioso quotidiano sportivo nazionale è un inizio importante per la tappa dell'Aquila, ha detto l'assessore allo sport del Comune Alessandro Piccinini. Ringrazio la Regione e i suoi lavoratori per le attività realizzate per questo primo evento. Sono certo che l'impegno del Comitato e di tutti i collaboratori assicurerà numerosi eventi per portare l'Aquila all'attenzione del grande pubblico. La tappa del 17 maggio celebrerà l'arrivo del Giro e anche di un grande lavoro corale per onorare la città e il decennale del terremoto a concluso Piccinini.